Il giudice dell'udienza preliminare di Massa ha rinviato a giudizio sette persone nell'ambito dell'inchiesta sulle strutture di accoglienza per minori della cooperativa Serimper attiva nelle province di Massacarrara e Lucca. Corruzione e traffico di influenze illecite, le ipotesi di reato contestate a vario titolo in questo filone delle indagini. Prosciolti invece Tamara Pucciarelli, moglie di Enrico Benassi, uno dei gestori della Serimper e il sindaco di Villafranca in lunigiana Filippo Bellesi, una tra le otto persone finite agli arresti nel dicembre 2020. Assolti nel rito abbreviato l'allora consigliere comunale Marino Petracci e l'assessore di Montignoso Giorgia Podestà. Tra i rinviati a giudizio figurano i due titolari della cooperativa Enrico Benassi e Alessio Zoppi, l'allora responsabile del centro affidi del comune di Massa Paola Giusti, il presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti, l'ex dirigente della società della salute della lunigiana Rossana Vallelonga e Mauro Marcelli, all'epoca dei fatti contestati, dipendente pubblico. Alla sbarra pure l'ex giudice onorario del tribunale dei minori di Firenze, Rosa Russo, il processo in cui il comune di Massa si è costituito parte civile inizierà il primo marzo 2023.